A Vercelli un Pescara semi-rivoluzionato. Bepi Pilon pensa ad un turnover che coinvolgerà mezza squadra in vista di un appuntamento cruciale in ottica salvezza. Da una parte necessità, viste le essenze di Campagnaro, squalificato, e di Coda, che non ha smaltito l'infortunio di due giorni fa. Dall'altra una valutazione ponderata del tecnico trevigiano, che distribuisce le forze in una settimana con tre impegni ravvicinati. Cinque le novità. Al centro della difesa sarà Perrotta ad affiancare Fornasier, il quale per l'occasione diventerà il centrale di destra. Pronto a rientrare negli undici anche Mazzotta sulla corsia Mancina. Gli farà spazio Fiamozzi, con Crescenzi, che andrà ad occupare il binario di destra. Al centrocampo Pilon darà una opportunità da titolare a José Macin, promosso dopo l'ottimo secondo tempo con il Bari. Andrà in panchina Coulibaly, intoccabili Valsania e Brugman. In particolare il centrocampista uruguayano stringerà ancora i denti, perché sempre alle prese, con delle noie muscolari. In avanti spazio a Falco e Cocco. L'unico superstite del tridente di sabato scorso è Mancuso, che virerà sul fronte sinistro dell'attacco, lasciando spazio su quello di destra a Falco, vivace e incisivo contro il Bari. Coppie di esterni a piede invertito dunque. Sul fronte offensivo può scoccare l'ora di Andrea Cocco. Pilon conta tanto sul centramanti sardo, che potrebbe partire dal primo minuto. Facile supporre una staffetta con Pettinari, un po' perché l'ex Vicentino non ha i 90 minuti nelle gambe, un po' perché lo stesso Pettinari ha appena ritrovato la via del gol, al culmine di una partita incomiabile per quanto dispendiosa. Ecco perché ci potrebbe stare una iniziale panchina. Al piola di Vercelli, Pilon cerca la prima vittoria della sua gestione. Nelle gare con Bari e Palermo, due big in lotta per la promozione diretta, il Pescara ha dato segnali evidenti di miglioramento, sia sotto il profilo del temperamento che sotto quello del gioco. Per diversi minuti sabato scorso i biancazzurri sono stati virtualmente in zona play-out e dalla fine il punto guadagnato è oro colato, abbinato ai risultati delle concorrenti. Ma ora serve un salto di qualità anche sull'aspetto che più conta, il risultato, anche perché il Delfino chiuderà la stagione con una sequenza di scontri diretti. Il primo proprio con la Pro, che sembra all'ultima spiaggia. È scivolata all'ultimo posto, non vince da 11 gare e ne ha perse 4 delle ultime 7. Ma il Delfino non è nelle condizioni di poter sottovalutare l'avversario perché il digiuno da vittoria è simile, manca da 10 partite, e perché c'è un brutto ricordo nell'ultimo precedente, quando il Pescara di Oddo, poi promosso in Serie A, riporto dal Piola una umiliante batosta. Un monito da tenere ben presente, come da tenere ben presenti saranno le qualità del pescherese Carletto Mammarella con i suoi micidielli calcipiazzati e la voglia di vendetta del portiere Mirco Pigliacelli, titolare del Delfino. A inizio stagione è ceduto a gennaio dopo lo screzio di Empoli, avuto con l'allora tecnico Zeman. Direzione di gara affidata a Riccardo Rossi di Pordenone.